Considerati i livelli di concentrazione di ozono, tornati ad essere preoccupanti, e un numero di sforamenti delle soglie superiori agli obiettivi previsti dalle norme, praticamente in tutto il territorio, la Regione Emilia-Romagna ha deciso di introdurre nuove misure anti-smog che verranno adottate già dalla prossima settimana, con un provvedimento che rimarrà in vigore sino al termine del 2021. Restano attive le limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti, mentre si sospende il blocco dei diesel Euro 4, che a Piacenza città sono 2.561, mentre in tutta la provincia oltre 6.700, che sarebbe scattato lunedì prossimo. Inoltre, le misure strutturali ed emergenziali per la qualità dell'aria previste dal 1 ottobre al 31 marzo saranno prolungate di un mese fino al 30 aprile. Dall'11 gennaio, inoltre, entreranno a far parte delle misure di blocco strutturali anche i veicoli Euro 2, benzina e GPL, oltre che i CH4 e Euro 1. Restano viceversa sospese le limitazioni per i veicoli diesel Euro 4. È previsto anche il raddoppio delle domeniche ecologiche fino a 4 al mese, a partire dal 24 gennaio, ad esclusione della domenica di Pasqua e del 26 dicembre, domeniche in cui scatterà anche il blocco per i veicoli diesel Euro 4. Le novità non riguardano però solamente la mobilità. Per ridurre gli inquinanti dovuti agli impianti di riscaldamento, la regione varerà un bando per incentivare la sostituzione delle stufe, maggiori agenti inquinanti, definendo una misura integrativa rispetto al bonus 110.